musica 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 allora, credo che abbiamo scordato qualcosa ieri era il compleanno di Stefan di Raffael di Raffael ieri, 50 anni ah scusa, mi sono sbagliato ancora 40 anni buon anniversario applausi applausi allora velocemente un flash Gabriele, no, non parla Gabriele dai, Gabriele dai, dai, dai la nome è la tua, dai, ti tocco ah no, ascolta sembrava lontano il podio invece alla fine me lo senti conquistato con merito si, si abbiamo si è vero a metà gara eravamo un po' dietro però pian piano la buona fortuna è un buon team è giustito benissimo abbiamo recuperato e se l'abbiamo fatta finalmente alla seconda edizione siamo saliti sul podio quarti l'anno scorso terzi quest'anno secondo il prossimo e poi i primi successivo perché no Zammada ha prospettato la stessa cosa per lui per la classifica per la classifica amatorial le munizioni sono finite qua sono finite le munizioni sentiamo Pastina non l'abbiamo lasciato stato tutto il weekend adesso mi sembra giusto che il contenuto video il riassunto sia il suo il riassunto iniziamo fino all'ora prove libere qualifiche soprattutto schifose abbiamo sbagliato qualcosa noi non abbiamo saputo interpretare siamo partiti ventottesimi abbiamo avuto la fortuna di pescare un kart buono il signor Edgar Cana si è esibito in una rimonta che dopo circa mezz'ora 20 minuti eravamo già primi e stavamo andando via poi insomma la gara l'avete vista anche voi tutti sono sommersi di car che vanno un po' più piano di car che vanno più forte e a quel punto lì bisogna avere il fegato di andare dentro a cambiare il kart anche se alla fine puoi pensare che ti mancano dei turni ascolta mi sembra che te con noi che si è trovato la fine e quei sorrisi là sono tutti di grande soddisfazione sicuramente sì in una gara lunga 24 ore te ne possono sempre capitare di ogni quindi arrivare secondi dietro poi al mio caro amico Fabio Tovalesci che è una squadra che è fortissima mi sembra che sia di soddisfacente bellissimo quindi grande soddisfazione per il PFV andiamo velocissimo qui aiutano tutti al bar e non farei parlare 5 vittorie e 5 competizioni 4 no? e continuiamo e continuiamo e continuiamo e continuiamo e continuiamo e continuiamo complimenti allora e la squadra che vince è questa qui allora facciamo parla a loro quando si che vince? ah si non ora ora si si no e la squadra almeno chante chante allo i enfants a non ma ora